Il Consiglio Comunale ha chiesto le dimissioni da capogruppo di Valeria Valente che ha rassegnato le dimissioni proprio ieri sera. Attendiamo il nuovo capogruppo, che devo valutare? Abbiamo detto più volte, non mi piace infierire su avversari politici che in questi anni non si sono sicuramente rigenerati, visto che parlavamo di rigenerazione urbana. Rigenerazione politica là non c'è stata, non che di questo sia felice, l'ho detto più volte. PD ha avuto una grande opportunità in questi anni di rigenerarsi, non l'ha saputo cogliere. Noi cercheremo di dialogare con quella parte più attenta, più attiva, di giovani, anche in Consiglio Comunale. Sicuramente ci sono dei consiglieri comunali che possono dare il loro contributo. Il partito mi sembra che stia in enorme difficoltà, soprattutto il crollo forte da Renzi a Valente sulla questione morale, mi sembra evidente, da quello che accade con Romeo, che poi li unisce pure. Che Valente è andato a chiedere con mola il sostegno a Romeo in campagna elettorale, Renzi stiamo vedendo quello che sta avvenendo fuori con la vicenda Romeo.